Avete mai pensato a come una singola decisione possa cambiare completamente il corso della vostra vita? Pensateci un attimo. Oggi, grazie agli insegnamenti di Eckhart Tolle, andremo a scoprire insieme come le nostre scelte quotidiane possano avere un impatto sorprendente sul nostro futuro. Ma prima di proseguire, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per non perdervi i nostri video. L'azione attiva è azione karmica, infatti karma significa azione. Ogni volta che rispondi a una situazione o interagisci con qualcuno, secondo la filosofia orientale, stai generando più karma. Ciò che è veramente importante in queste situazioni non è tanto l'evento o la circostanza in sé, ma piuttosto il livello di consapevolezza e lo stato mentale che porti in quel momento. È cruciale tenere a mente questo principio, perché senza di esso si rischia di farsi ingannare dal mondo, pensando che sia la situazione esterna a essere fondamentale e così si reagisce impulsivamente. Per evitare ciò è necessario essere costantemente vigili, il che presuppone già una certa consapevolezza interiore. Partendo dal presupposto che chi sta ascoltando questo messaggio possieda già tale livello di consapevolezza, è importante sottolineare quanto sia essenziale mantenere questa vigilanza sul proprio stato interiore in ogni circostanza. Il focus principale della vostra attenzione, dice Tolle, dovrebbe essere su come rispondete alle situazioni, piuttosto che sulle azioni che intraprendete in risposta ad esse. Quando iniziate a concentrarvi maggiormente sulle vostre reazioni interne, entrate in uno stato di consapevolezza elevata. Questo stato di attenzione cambia profondamente la vostra esperienza nel mondo, diventate più sincronizzati con il flusso evolutivo dell'universo che mira all'espansione della vostra coscienza. Unendovi a questo flusso, scoprirete che le sfide della vita, sia che riguardino la finanza, le relazioni, la salute, la vostra situazione abitativa o il lavoro, si affrontano con maggiore facilità. Spesso i problemi emergono dalle interazioni con gli altri e da un punto di vista egocentrico, gli altri possono sembrare la fonte dei nostri problemi. Tuttavia, adottando queste prospettive di maggiore consapevolezza e connessione con l'universo, potrete trascendere queste difficoltà personali e vedere le situazioni in una luce diversa. Affrontare i problemi principali della vita richiede un approccio differente da quello abituale. E voi? Avete mai provato ad affrontare le situazioni della vita con un approccio diverso? Invece di reagire istintivamente e identificarsi con lo stato mentale del momento, è consigliabile incontrare queste sfide in uno stato di attenzione consapevole. Questo significa osservare il problema con una mente chiara, senza pregiudizi o reazioni emotive immediate. Adottando questo approccio, potreste scoprire che la situazione si trasforma in maniera quasi magica. Problemi che prima sembravano insormontabili possono iniziare a risolversi o potreste iniziare a vedere aspetti positivi in situazioni precedentemente percepite come negative. In questo stato di attenzione possono emergere soluzioni inaspettate o fattori utili che prima non erano evidenti. Più fondamentalmente, questo modo di affrontare i problemi può portarvi a trascenderli internamente. Il vostro stato interiore smette di dipendere dalle circostanze esterne. È una sorta di riprogrammazione mentale per imparare a sviluppare pensieri positivi e dare un'accelerata alla vostra crescita interiore. Questo distacco non significa indifferenza, ma piuttosto una libertà interiore. La situazione esterna potrebbe non essere cambiata, ma il vostro modo di percepirla e di viverla sì. Questa è una forma di liberazione interiore, dove la vostra pace e il vostro benessere non sono più condizionati dagli eventi esterni. Questa trasformazione di coscienza non avviene sempre immediatamente. A volte c'è un periodo di attesa durante il quale sembra che nulla cambi, ma, con la pazienza e la fiducia, in questo processo di attenzione consapevole, i cambiamenti possono verificarsi. Anche se i cambiamenti esterni tardano ad arrivare, il cambiamento interno vi permette di affrontare le situazioni con maggiore serenità e saggezza. Agendo da uno stato di consapevolezza profonda, le vostre azioni diventano una risposta ponderata e consapevole alle circostanze, piuttosto che semplici reazioni a impulsi momentanei. Nella filosofia orientale, particolarmente nel buddismo e nell'induismo, il concetto di karma, che significa azione, gioca un ruolo cruciale. Ogni azione reattiva e inconsapevole contribuisce alla generazione di più karma, che può essere interpretato come l'accumulo di complicazioni o conflitti nella propria vita. Invece, agendo in uno stato di piena consapevolezza, si evita di produrre ulteriore karma. Questo significa non solo ridurre i conflitti nella propria vita, ma anche contribuire a un mondo meno problematico, un mondo in cui le azioni sono guidate dalla chiarezza e dall'intento, non dall'impulsività. Questa dinamica si applica anche a livello collettivo, specialmente quando si considerano le intenzioni e le azioni umane su larga scala. Spesso anche le persone con le migliori intenzioni finiscono per creare risultati non previsti e negativi a causa della mancanza di una vera consapevolezza di fondo nelle loro azioni. Questo fenomeno è evidente nella storia, dove i tentativi di costruire società ideali basati su teorie e ideologie, ma privi di un autentico cambiamento di coscienza, hanno portato a conseguenze disastrose. Opere letterarie come La Fattoria degli animali di George Orwell e Buio a mezzogiorno di Arthur Kostler offrono una critica penetrante di tali tentativi, illustrando come le buone intenzioni, se non radicate in una reale comprensione e consapevolezza, possano degenerare in situazioni tragiche. Questi romanzi rivelano in modo acuto come sistemi ideologici e politici possano trasformarsi in regimi oppressivi, anche quando originariamente erano stati concepiti con l'obiettivo di creare un mondo più giusto ed equo. La celebre affermazione «La strada per l'inferno è la stricata di buone intenzioni» sintetizza efficacemente questa realtà. Le buone intenzioni, in assenza di una consapevolezza profonda e di un esame critico, possono portare ad esiti catastrofici. Pertanto, per evitare che le nobili aspirazioni portino a conseguenze indesiderate, è essenziale un cambiamento radicale della coscienza, sia a livello individuale che collettivo. Un cambiamento di consapevolezza può risolvere problemi globali come l'oppressione, lo sfruttamento e le disuguaglianze sociali. Lo sviluppo personale e la crescita della consapevolezza sono fondamentali non solo per l'individuo, ma anche per contribuire a un cambiamento positivo e duraturo nel mondo. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Crescita Personale e Finanziaria.